Sai che ho saputo di Maybelle Maryweather? Ti ricordi quel tipo buffo che la corteggiava? Quello con quei calzoni che sembravano mutandoni da donna? Non occorre che tu parli per distrarmi, Rossella. So che sei preoccupata. Il passerotto vola, la rondine sul tetto, è primaverata. Melania, vado a prenderti dell'acqua fresca. Sei più lenta di una marmotta. Dov'è il dottor Mead? Io non ho trovato lui. Cosa? No, non stare a ospedale. Uomo mi ha detto che il dottore è andato a stazione per curare nuovi feriti. Perché non sei andata a cercarlo? Miss Rossella, io ho spaventato andare in stazione. Essere tutta piena di morti e avere tanta paura di gente morta. Vai da Miss Melania. E non la spaventare, se no ti frusto. Il passerotto vola, la rondine...